Eccoci amici, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di Terriblea sul canale 89. Abbiamo tante cose da dire oggi e chiuderemo anche con una pagina dedicata agli europei, con il commento del nostro Stefano Ferrera che ormai è diventato un giornalista da articoli sui giornali nazionali. Parliamo prima di tutto di incendi, perché l'amico Assenza ci fornisce delle immagini che sono abbastanza interessanti. Un incendio è scoppiato nei pressi di Comiso, come vedete fa paura perché alla fine la distanza dall'abitato non è che fosse tantissima e questo ha preoccupato molto gli abitanti di Comiso che si sono rivolti naturalmente alle autorità, ma i pompieri sono stati particolarmente attenti, sono intervenuti anche dei mezzi aerei perché in quelle condizioni con il vento la cosa migliore è davvero intervenire con i mezzi aerei. Allora io non posso fare la cronaca dell'incendio, voglio soltanto dire una cosa che, come è stato sempre ribadito, occorre fare molta prevenzione. Non so se quest'anno sono già partiti i 51isti, i 91isti, ma come è stato richiesto da più parti serve soprattutto un'azione di prevenzione nelle zone a rischio, cercando di fare dei sentieri tagliafuoco, facendo pulizia dei bordi delle strade. Ora non faccio l'assistente forestale, quindi non vi so dire, ma queste sono le cose più importanti perché solo così si riuscirà a ridurre al minimo il rischio, il rischio ci sarà sempre fino a quando tra l'altro non parliamo di incendi fatti apposta, cioè dolosi, quindi se uno vuole attaccare l'incendio non c'è niente da fare, la prevenzione serve a ben poco. Allora, detto questo, quindi ribadendo l'invito alle autorità a organizzare bene il sistema antincendio, dobbiamo dire che molto di questo lavoro in verità lo hanno sempre fatto gli agricoltori, i proprietari dei terreni. In questo periodo gli agricoltori sono particolarmente arrabbiati, almeno ce n'è una parte. Ricordate la protesta di quella che è partita a febbraio di quest'anno, lì dal foro Boario di Ragusa? La protesta partì proprio dalla nostra città, dalla città di Ragusa. Ricordo che il sindaco Cassì, insieme ad altre autorità, si fecero carico di... Stilare quella che poi fu chiamata la carta di Ragusa. La carta di Ragusa doveva servire a mettere su carta, naturalmente, quelle che erano le necessità degli agricoltori, degli allevatori, perché sono più categorie interessate e ognuno ha il suo problema. Fino all'altro ieri abbiamo sentito una voce della protesta, oggi non la sentiamo in collegamento, ma ne parliamo. Allora, intanto la prima protesta riguarda questa storia della carta di Ragusa. Io credo che sia stata un'occasione sbagliata, anzi un'occasione persa, dal sindaco di Ragusa. Dice a chi ci c'entra? Il sindaco di Ragusa. Il sindaco di Ragusa, si chiama carta di Ragusa non per nulla, il sindaco di Ragusa si era fatto immediatamente promotore di un incontro fra i sindaci per stirare questa brevetta carta, quindi con le esigenze e portarla a chi di dovere, cioè andare a finire, che vi posso dire, a Palermo, se non anche oltre. Eravamo praticamente in campagna elettorale con le europee. E quindi sarebbe stato un momento buono per ottenere dei risultati. E questa è l'occasione che ha perso il sindaco. Non ha cavalcato l'onda, non ha cavalcato la protesta e piuttosto si è limitato a dire sono con voi, condivido, mi riunisco con il libero consorzio e la cosa è finita lì. Non è neanche andato con i sindaci a protestare per dire la verità, forse perché lui usa e è abituato educatamente a toni molto bassi, molto calmi. In pratica il sindaco non ama né alzare la voce né sbattere i pugni e invece in quell'occasione sarebbe stato utile sbattere i pugni, sarebbe stato importante chiedere agli altri sindaci di sottoscrivere questa carta con le 3-4 richieste importanti tipo, ecco lo abbiamo sentito più volte, il congelamento dei debiti, gli aiuti per i mangimi degli animali, tutte queste cose purtroppo non sono state fatte. Tanto è vero che oggi Spadaro, che lo vedete col maglione rosso di spalle che era uno che guidava la protesta, ha detto ma la carta di Ragusa che fine ha fatto il vescovo di Modica, il sindaco di Ragusa che fine hanno fatto nulla e questo è un male perché io lo capisco bene, c'è un detto siciliano che dice se non hai provato la fame non la puoi capire detta in italiano perché la fame si capisce solo quando si prova e quindi capisco, avendo come si dice la sacchetta piena non si può pensare ai guai degli agricoltori che hanno triplicato, quattruplicato, hanno avuto il prezzo del mangime e cose di questo genere, quindi questo è uno dei limiti. Poi in questo caso del sindaco Cassica aveva avuto l'occasione di essere il protagonista in assoluto e invece è stato un attore, un compartecipante. L'altra coppa gli agricoltori le danno alla col diretti, alla col diretti che ormai è troppo politica, fa molte azioni di immagine, se va al Brennero, blocca il camion, fa un po' di sceneggiata, però la verità quando aveva promesso di portare gli aiuti per il mangime dove cosa hanno fatto? Due balle e due balle di paglia, quindi tutte queste cose purtroppo non si possono nascondere e gli agricoltori sono sull'orlo del fallimento, hanno guai enormi, non possono pagare i debiti, gli pignoreranno le case e compagnia bella, chi è che si interessa a loro? Praticamente nessuno, eppure l'agricoltura per una città come Ragusa e Basilare da sindaco, su questa cosa entrerei a gamba tesa, anche se lui è un giocatore di basket, farei un fallo volontario pur di avere il risultato. Detto questo, dobbiamo anche dire che purtroppo anche in agricoltura, in quelle che sono le attività collegate ai pascoli, purtroppo c'è un po' di male a fare, abbiamo visto ultimamente ci sono state delle iniziative dei carabinieri della Guardia di Finanza che sono intervenuti bloccando delle attività mafiose che si sviluppavano soprattutto nel territorio vittoriese e soprattutto nell'ambito dell'agricoltura, del mercato ortofrutticolo, dei produttori, insomma queste cose sono state in qualche modo fatte venire fuori, sono state arrestate 16 persone, c'è un giro molto grosso, c'era un'attività direi mafiosa per quanto riguarda gli imballaggi che devono essere quelli, solo quelli, comprati là, comprati qua, quindi una cosa che mette in difficoltà l'intera economia. Sabato mattina c'è stato a Ragusa un incontro organizzato dalla CNA, questo incontro che ha visto i massimi vertici della CNA locale, addirittura anche Gregorini, Presidente nazionale, si è parlato di legalità, quindi in ricordo di Pippo Tumino che è stato segretario della CNA per tanti anni, Presidente della Cama di Commercio, che è morto proprio mentre era Presidente della Cama di Commercio, per ricordare lui ogni anno si fa un convegno importante e interessante e il tema di oggi, di sabato, era la legalità. La legalità. Allora noi abbiamo colto l'occasione, intanto abbiamo realizzato un lungo servizio speciale che andrà in onda più tardi in questo telegiornale, però abbiamo avuto l'occasione di parlare con il componente della Commissione antimafia a livello nazionale, il senatore Salemi, quindi lui che è proprio in questo settore, a lui abbiamo chiesto qualcosa su questa mafia che soprattutto per esempio a Vittoria ha fatto vedere le sue grimpie. Sentiamolo.